Ah, la guerra, la guerra. La guerra non cambia mai. E io sono tornato su Battlefield V. No, ancora non ci siamo capiti. Il montatore di video deve conoscere i giochi, va bene? Che continua a mettere Battlefield 1, ma non c'entra nulla, non c'entra. Questo è il sequel. 30 minuti, 64 giocatori, cono gelato, gioca. In modalità conquista... Scusami, ma non ce n'era bisogno, grazie, l'ho già fatto altre volte. Chissà quale personaggio sceglierò. Signora, come lo porta male il cappello. Alla carica! Oh, no. Sempre bello fare le maratone di prima mattina. Buongiorno ragazzi! Che fa? Spaletta? Bravi! Cosa? Ma questa è una feature che sinceramente non conoscevo, bello! Ma ce l'ho anche io la palla, magari? No, cosa c'ho? Il 3. Giustamente mi metto la mano sull'altro occhio e sbircio distante. Ma non siamo qui per cazzeggiare. Siamo qui per prendere vite. E cazzo! Partiamo alla grande. Una mano! Cortesemente! Lì in fondo! Eh? Ah, sono colpito, niente, come non detto. Eccolo! Dai, l'ho preso però! Ma ho sparato prima... Oh... Grazie! Gentilissimo, a buon rendere. Eh, la guerra... Oh, questo è un caro armato. C'ho qualche cosa di esplosivo? Sì! Aspetta, aspetta, aspetta! E dai! Però ho lanciato comunque il granatone. Eh! Oh, mamma mia! Che gravità! Il problema è la mappa. Non mi sento bene a casa. Eh! Ha chiuso la porta! Ah! Non mi sento di esprimere il mio vero essere in questa partita. Come l'ho detto, sono tornato. Beh, è difficile che mi possano tirare su. Sono già sottoterra. Beh, in classifica non sono neanche cosi... Sì, sono una merda. Da dietro! Eh dai! Dai! Appena spawnato! Che effetti particellari! Spostati! Yes! Oh! E sono sopravvissuto! Eccomi. Dov'... Oddio, che me dai! Però è facile vincere così. Dezuda! Dezuda! Grazie! Ah, oddio! Era meglio se mi lasciavi giù. Sì! Era decisamente meglio se mi lasciavi giù. Ragazzi, però! Gioco di squadra! Mica posso far tutto io! Ma non ti mettere in mezzo! Ma sei pazzo? Allora, allora, allora. Ci impegniamo. Carica. Mira. Lo vedi. E non ne abbiamo preso. Perché? Perché bisogna mirare più in alto. Tipo così. Esattamente così. Che rompe i vetri? Maleducato! Ah, giusto! Le ricostruisce anche. Bella idea! Bravo, carpentiere! Ha detto culo di meno? È molto strano che nessun mio colpo vada a segno. Aia, che male! I suoi arrivano, però. E dai no! Adesso risalgo la classifica, eh. Promesso. Yes! Eh, ma lui c'è il mitra! Non vale! Aspettatemi! La camionetta! E niente. Mi aspettavo un ritorno più aggressivo e pomposo qua in Battlefield. Invece sto correndo per il solito campo. Qui c'è anche un ruscello. Per carità, bello, ma... Eh. Oh, e là, cecchino! Eccolo! Da una certa distanza sono bravo. Quella che sta tra la lunga e la breve. Guarda come me lo inculo. Cazzi! Oh, finalmente sono un po' di caro armato. Come... Come si mira? Cosa sono io? Ah! Oh. Ma siamo matti? Però devo dirlo. Ad ogni Battlefield ti fanno sempre sentire più nella guerra vera. Dove muori, respawni, rimuori. Stiamo perdendo e... Non posso fare meno di pensare che sia anche colpa mia. Cos'è? Cos'è sta mira qui? Ma mira bene! Che roba è? Ma... Una mano! Una... Cortesemente! Sia gentil... Dai! Non mi sembra amichevole. Cazzo! Certo che ne hanno tanti di questi aerei... Oh oh! Ne! Cosa... Cosa... Cosa è successo? E nonostante tutto posso ancora... Niente. No. Scusami? Che... Che... Non la vedo bene. Me ne vado. Salve! Vado di via. Oh no! Vabbè ma di poco. Bravi! Tiratevela di meno adesso. Ma che nome è acciaio fuso? Perdonami. Salve! Buongiorno. È la mia prima volta qui. Ma non ho capito. È una battaglia? Oppure... Una passeggiata tra le rovine? Ah no! È una battaglia. Ok. E vabbè. Eh adesso me lo dici? Una manina? Oh come non detto. Vabbè ma quello lì è una kill fa... Oh salve! Ma come? Come non l'ho preso? Mi perdoni? Ma da dove? Sono cecchino. Devo stare in alto. Eh niente. Gli tocco il culo? Mi sento molto in imbarazzo a giocare. In questo momento. Fanculo! Oh scusami. Ho sbagliato tasto. Tranquillo ti tiro su. Che fai? Posso salire qui? Sì. Cacca forse era meglio non farlo. Che bella scena. Alle spalle da vigliacone. Però l'ho preso. Come hai fatto? Dai! Non ci credo. Se gira... Sono dei maghi. Ve lo dico io. Che minacce grosse. Credete? Ah ma io sono a zero kill. È un problema. Volete che cambi classe? Cambierò classe. Non l'avevo visto. O ho completamente disimparato a giocare. E dai! E dai una kill stavo facendo. Che brutta la caduta di quest'albero. Ma chi mi ha sparato nella schiena? Scusa c'è la mia squadra. Ma come? C'era un cecchino nella nostra base ragazzi. È stato imbarazzante. Proverò solamente l'ultima partita. E poi deciderò se disinstallarlo per sempre. Perché non ce la faccio. Fino al day one dubito ci sarà qualcuno di abbastanza pippa. Da poter competere con me. Beh? Era forse un mago? Oh sì! E con una cura non mi farebbe schifo. Oh salve! Lei cura? Lei cura? Ma arrangio allora. Grazie. Oh oh! Che buco! Ho preso fuoco per caso? Il mio problema è che io questa mini mappa non la guardo mai. Per me è come non averla. E questo mi causa dei disagi. Aia! Ah ma cazzo! Quello lì era un manichino! Un altro mio problema è che non riesco a prendere gli avversari. Potrebbe essere la determinante. M'avrà visto? Eh sì! Ma mamma mia! Oh! Ma è pazzo questo qui! Gli faccio la barba! Ma basta! Ma co... Non ti arrendere amico mio! Ho sbagliato. Ma qui c'avete il tank! Ecco perché state andando alla grande. Posso unirmi? Aia! Eh vabbè. Oh grazie! Gentilissimo! Non fate gli spavaldi che poi vi incastrate. Guarda lì che figura. Non trovo più nessuno, incredibile. Ma com'è possibile? Stavamo vincendo! Ragazzi! Poteva andare meglio. Poteva andare peggio. Ma l'importante è che sia andata. Per fortuna che nessuno riponeva speranze su di me. Entra! Questa non la metto nel video.